Ostracismo, ciò che ha spinto ad esempio il governo norvegese recentemente, esaminando queste tecniche di estromissione psicologica, di ricatto psicologico che viene messo in atto, a revocare la sovvenzione che ogni anno veniva data ai testimoni di Geova. Adesso c'è il ricorso dell'attore di guardia. Leggiamo cosa scrivevano nel 54. Qualora un padre, una madre, un figlio, una figlia fosse disassociato, come dovrebbe essere trattato tale persona dai membri della famiglia e i loro rapporti familiari? Noi oggi, risponde l'attore di guardia, non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica, per apostasia. Come era possibile, in Israele, uccidilo senz'altro, la tua mano si era prima a levarsi su di lui. Ma è proprio il caso di accostare i versetti, come fa altrove, della lapidazione dell'Antico Testamento, in un'epoca in cui nella cultura, nella sensibilità del tempo aveva anche il suo senso, diciamo, in una cultura tribale. 4.000 anni dopo, parlare di questo. A proposito di chi? Di un parente che ancora magari crede in Dio e in Gesù Cristo e ha spesso semplicemente qualche dubbio, legittimo oltretutto, e viene trattato come meritevole di uccisione, ti va bene che non siamo nell'Antico Israele? Torni di Guardia, 15 gennaio 54, pagina 62. Sterminati da Dio. Quindi, gli associati moderni ringraziate. Gli va anche bene che vi lapidino solo spiritualmente, regandovi il saluto.